Andatevene! Qualte volte devo ripetervelo che ho già incontrato Gesù e che non ci siamo piaciuti? Sono la vicina! Non è un buon motivo per aprire la porta. Ho ritirato un pacchetto per lei. Oh, perché non me l'ha detto subito? Salve. Ah, sì, tu sei... Anita. Già, appartamento 4C, sì, tu sei... La prostituta. Anita, prostituta. Dovrei farmi fare la carta intestata. Ecco il suo pacchetto. Grazie. Ah, e grazie per avermelo aperto. Me l'hanno dato già aperto. È una raccolta di canzoni degli anni 70? Sì, qui dentro c'è una canzone che mi piace. The Night Chicago Died. Ah, allora fanno due. Beh, grazie per averlo ritirato. Lo sa, non deve essere imbarazzato quando mi vede. Insomma, possiamo fare conversazione. Cosa ha fatto lei oggi, cosa ho fatto io. Non credo di poter parlare di quello che hai fatto oggi senza essere in imbarazzo. Bene, parliamo di lei. Oggi non è stata una gran giornata. È venuto un tizio a chiedermi di fare una cosa che non sono certo di poter fare. So di cosa sta parlando. Continui. Ecco, mi ha chiesto di frodare la sua compagnia di assicurazione. E più ci penso e più credo che dovrei farlo. No, non può. Non è così semplice. Quell'uomo ne ha davvero bisogno. Non importa, è illegale. Sì, certo. Però, non offenderti, Anita, ma è un po' strano sentirselo dire da una persona che infrange la legge ad ore come lavoro. Ma io non faccio del male a nessuno. Beh, solo ha un tizio, ma paga di più. È un po' più complicato di così. Potrei aiutare una persona che si trova in grave difficoltà. Secondo te, alla fine, chi sarebbe la vittima? Una compagnia di assicurazioni scorretta? Questo è un errore di giudizio diffuso. Il settore delle assicurazioni è molto controllato. In effetti, l'unico motivo per cui aumentano i premi è la quantità di frodi che subiscono. Almeno così dice il mio prof di economia. Frequenti un corso di economia? No, è un cliente. Guarda, John, puoi girarla come ti pare. Tanto la sostanza non cambia. Devi aiutare quell'uomo. Non mi stai seguendo, Margaret. Il settore delle assicurazioni è molto controllato. In effetti, l'unico motivo per cui aumentano i premi... Oh, ma piantala. Hai ripetuto quella frase tre volte e ancora non ha senso. Devi aiutare quel poveraccio. Ah, davvero? Lo sai? È grandioso. La prostituta dice che dovrei essere onesto. E la predicatrice mi spinge ad imbrogliare. Ma non c'è almeno una donna che si comporti in maniera prevedibile? Dottor Becker, ho dimenticato di dirle che oggi esco prima. Non posso credere che tu appoggi la froda. Dove sono finite quelle belle parole tipo non rubare? In certi casi è più importante aiutare i sofferenti. Questo l'hai letto nella Bibbia? No, è nel giuramento di Ippocrate. Ah, certo. Non c'è bisogno di sbattermi in faccia. No, è nel giuramento di Ippocrate.